Il compito che è stato affidato a me, lo dico come captazio benevolensi, è particolarmente difficile perché parlare a dei filosofi occidentali ed europei di che cos'è la filosofia occidentale è ancora più intricato perché chiunque di noi presenti avrebbe potuto fare al posto mio la relazione perché ciascuno di noi ovviamente è ben informato e tuttavia la ragione per cui si è ritenuto credo importante anche questo aspetto è che per quanto siano cose che tutti noi sappiamo sono cose che finché non le diciamo le sappiamo ma appunto quando ci tocca poi tentare di definirla magari accadono a noi stessi delle sorprese. Allora io il tentativo che farò in questa relazione che non può ripercorrere più di duemila anni di storia in un'ora è quello di individuare dei paradigmi delle strutture portanti e aggiungo a mio parere permanenti. Certo la filosofia occidentale è piena di diversità se andiamo nel dettaglio ma ci sono degli elementi che sono quelli che io cercherò di proporvi che a parer mio si sono sedimentati come elementi a cui tutti noi non possiamo non fare riferimento quando anche li ritroviamo magari un po' stretti o necessitanti una ulteriore specificazione eccetera eccetera quindi sono paradigmi non alternativi ma successivi e nello stesso tempo permanenti quelli che io cercherò di dirvi e naturalmente sarà anche molto sovente solo un titolo perché sono cose che tutti noi sappiamo e quindi se io dico il paradigma della storia non c'è bisogno di ulteriormente esprecisarlo per capire che mi riferisco a una certa epoca della filosofia eccetera. Seconda considerazione introduttiva concordo con Franca quando lei dice che l'occidente non sta necessariamente in occidente e concordo anche sul fatto che probabilmente dobbiamo complessificare la nozione di occidente e quindi questo aggettivo occidentalis scritto in latino che io ho messo qui come titolo della mia relazione forse potrebbe poi in effetti ultimamente dal punto di vista della conclusione diventare un genitivo europe perché ciò a cui io faccio riferimento è piuttosto la filosofia così come essa è vissuta all'interno dell'europa che non coincide a parer mio con l'occidente c'è una tradizione occidentale che è più ampia della tradizione europea ultima considerazione introduttiva io suggerirei proporrei ma è per entrare in dibattito già anticipatamente con Franca e con le cose che sono state dette prima lei dice la filosofia analitica la filosofia io le suggerirei di togliere l'articolo mentre parlavi mi era venuto in mente un articolo indeterminato una filosofia sono diventato più conciliante e ti propongo di togliere tanto l'uno quanto l'altro articolo e dire filosofia cioè non è la filosofia lo nego nel modo più assoluto non mi piace forse neanche la soluzione che sia una filosofia per dire ce n'è una qua una la una la io penso che noi oggi dobbiamo porci il problema ma di far filosofia e ciascuno di noi lo fa con gli strumenti di cui dispone ma avendo in riferimento un parametro che secondo me la tradizione occidentale ci ha fornito come punto di riferimento sicché alcune delle considerazioni che abbiamo sentito nei giorni scorsi io stento a ritrovarle all'interno di ciò che intendo con filosofia questo non per dire che non sono contribuzioni di grande rilievo e che anche attingono a se vogliamo usare la parola filosofica classica a verità è che non tutta la verità sta nella filosofia ma è anche vero che ci sono dei generi letterari per dirla nel modo più semplice che mancando i quali io ho difficoltà a riconoscere che quelle importanti tradizioni debbano essere ascritte a quel nome che si chiama filosofia il che non toglie alcuna importanza all'ascolto al dibattito ma non è così irenico ed eclettico da far di far di ogni erba un fascio ultima considerazione proprio sull'intervento quando mi è stato chiesto a un certo momento io ho detto ma dovrei fare qualche cosa anche per dei filosofi che vengono da una tradizione non europea addirittura non occidentale mi è stato detto di sì naturalmente poi il paradosso è che parlo a tutti coloro che invece sono dentro questa tradizione cioè l'idea che mi ha un po' guidato era anche quella di parlare di formulare la specificità e l'originalità della filosofia occidentale come se fosse la prima volta che incontriamo questo oggetto e quindi con questa esperienza del dire ha questa esperienza di sorpresa anche di quello che noi siamo la prima parte che sarebbe l'articolo e il contributo si divide in due parti una che riguarda il novecento e le mie proposte un po' più specifiche e una che arriva in quindici pagine fino al novecento quindi è più che un bignami questa prima parte io la riduco ulteriormente perché mi sembra di potervi dare solo i titoli e mi affido alla vostra comprensione allora io tenderei a immaginare che il primo paradigma della filosofia che si è sicuramente configurato in Grecia abbia questi quattro tratti caratterizzanti ossia la filosofia è un sapere che non ha un oggetto specifico primo dovrei dimostrarlo ma ovviamente mi affido alla vostra comprensione secondo questo sapere che non ha un oggetto specifico tuttavia ha la pretesa di generare un ordinamento complessivo dei saperi e quindi di essere un sapere architettonicamente superiore terzo questo sapere ha caratteri di universalità ha una pretesa di universalità ma affida questa pretesa di universalità al riconoscimento che avviene attraverso il retto uso della ragione individuale e quindi contiene già subito una tensione perché non è un'universalità automatica ma è una universalità esposta al riconoscimento da parte di ciascuno ciascuno ne è capace perché ciascuno è dotato di ragione quarto elemento il sapere filosofico contiene in termini non soltanto applicativi ma strutturali una intrinseca dimensione pratica è un sapere che per quanto teorico è così globale e universale da importare conseguenze pratiche fra l'altro il sapere filosofico contiene da indicazione di un elemento che nasce già in grecia e permane fino ai giorni nostri di sbandamento possibile della filosofia tra due direzioni la filosofia per un verso si costituisce come un sapere massimo ma per l'altro si può anche costituire come un sapere minimo di orientamento di vita pratica tanto è vero che noi tutti ci sentiamo siamo sentiti dire quando eravamo giovani facciamo filosofia che appunto imparavamo a prenderla con filosofia la nostra vita ora questa doppia valenza da un lato è uno sbandamento tra un massimo ed un minimo ma dall'altro è l'indice di una complessità e intenzionalità della filosofia che mentre si occupa dei massimi sistemi pensa che essi abbiano significazione per i minimi sistemi o viceversa che quando si occupa del minimo pensa che lì ci sia una verità che ha delle valenze in qualche modo generalissime per non dire assolute questo paradigma greco ha trovato uno straordinario sviluppo nel mondo cristiano cioè dopo il Vangeli e dopo il fatto che abbiamo avuto l'esperienza di una parte del mondo che è divenuto cristiano e qui a me piacerebbe mettere in evidenza soprattutto due aspetti ovviamente si potrebbero dire molte moltissime cose la prima di queste è che indubbiamente il messaggio cristiano introduce nella filosofia dei paradossi o delle verità comunque che hanno un carattere paradossale come il tema della incarnazione per prenderne uno come il tema della trinità per prenderne un altro che obbligano la ragione filosofica a confrontarsi con dei dati ritenuti rivelati e quindi assunti come delle verità con cui confrontarsi che fanno una qualche difficoltà rispetto ai paradigmi della filosofia greca ora da questa considerazione io vorrei trarre come dicevo due elementi come significativi il primo lo dico in termini un po' popolareggianti il cristianesimo ha salvato la filosofia nel senso che la filosofia si trovava in una rischio di deriva verso i problemi minimi l'ellenismo lo portava verso i problemi minimi il cristianesimo portando questi problemi massimi ha riobbligato a pensare alle grandi questioni metafisiche cioè alla filosofia come grande sistema complessivo naturalmente poi nel cristianesimo medievale l'ordinamento gerarchico ha portato sopra la filosofia la teologia ma in verità l'ha fatto senza mai mettere in discussione lo statuto disciplinare della filosofia e questo è un grande merito del medioevo in qualche misura direi che se la filosofia ha continuato un suo legame con i massimi problemi del mondo questo è un specifico contributo che viene dalla tradizione ebraico cristiana il secondo specifico contributo che appartiene e trapassa nella modernità è il fatto che proprio per il carattere rivelato di moltissime tra delle verità a cui si faceva riferimento tutto ciò ha introdotto a mio parere una novità dentro la filosofia cioè la tensione conflittuale cioè la verità come qualche cosa che deve portare ad una una corrispondenza ad una coniugazione di elementi che hanno tratti di incommensurabilità e questo è qualche cosa che mi sembra poi trapassa assolutamente nella modernità e così avrei mi sarei sbarazzato anche qui facilmente di una quindicina di secoli arriviamo a grandi falcate alla modernità dove sarò per certi aspetti ancora più breve nel senso che sono cose che naturalmente tutti noi conosciamo per conto mio il moderno si può far cominciare con non solo per conto mio ma insomma io sono fedele a questa linea far cominciare con Cartesio con Cartesio incomincia il moderno sotto il segno della discontinuità cioè il moderno non è soltanto il fatto che in luogo del fondamento si pone la certezza non è soltanto il fatto che si muove della certezza minimale del cogito per costruire l'intero sistema ma il moderno è soprattutto questo gesto attraverso cui la filosofia si ripropone di ricostituire lo stesso sistema di ampiezza di verità del mondo classico Cartesio si sente come Aristotele esplicitamente come sappiamo ma a partire da una interruzione della tradizione sicché lui riproduce o vuole riprodurre in modo nuovo gli stessi contenuti dell'antico ma a partire dalla discontinuità piuttosto che a partire dalla continuità seguono e li cito solo Ampasang ma seguono tutto l'emergere e qui vale quello che io dicevo in avvio che questi paradigmi sono paradigmi permanenti l'emergere di paradigmi come quello della esperienza oppure più ad avanti come quello della storia che sono la assunzione di mondi della vita e della storia come orizzonti a partire dai quali deve essere pensato l'intero e il moderno è precisamente particolarmente sensibile a tutto ciò perché il moderno post cartesiano è obbligato a fare i conti con il mondo anzitutto costituendolo e non lo trova come già dato ma in una certa misura lo pone il caso massimo del ponimento è evidentemente come sappiamo l'idealismo ma in definitiva la svolta trascendentale kantiana è già la condizione attraverso cui è attraverso un porre che l'ordine della realtà mi consente di vedere il mondo e questa è la dimensione che sicuramente costituisce l'orizzonte del moderno e poi della modernità ma anche fa ritrovare nella nostra filosofia più recente gli stessi antichi problemi della filosofia antica perché il mondo è poi lo stesso solo che mentre nell'un caso è dato lo trovo e su questo rifletto qui per trovarlo devo anzitutto porlo porne le condizioni di possibilità direi che sono stato bravo perché in dieci minuti ho fatto venti secoli del resto come sappiamo c'è un'accelerazione nel moderno del tempo arrivo con un po' più di calma ma neanche tantissima al novecento dove io mi aspettavo forse che Franca si occupasse di più del linguaggio e quindi io ho detto del linguaggio non dico neanche una parola perché lei ne parla certamente allora io qui sono almeno obbligato a dire che tra quei paradigmi che ho citato così en passant l'esperienza la dimensione trascendentale la storia certo il novecento ci porta all'evidenza un altro paradigma intendendosi come mondo a partire dal quale comprendo il mondo che è quello del linguaggio ma io essendo come lei diceva uno di quei filosofi ermeneuti che invece di dirti che cosa di che cosa si occupano ti dicono di chi si occupano vado più che altro verso dei temi no qui correggo un po' vado verso dei temi del novecento che a me sono più vicini e che sicuramente trovano in Heidegger il punto di svolta o il punto di coagulo io tra gli ermeneuti torinesi sono il meno heideggeriano di tutti ma penso che lì si sia si coaguli non penso che le sue soluzioni siano quelle buone per dirla in modo molto esplicito ma penso che lì si pongano una serie di problemi e di svolte che continuano in quella direzione a cui ho fatto già riferimento cioè sono elementi rispetto ai quali non c'è ritorno sono dei dati rispetto ai quali puoi andare oltre puoi persino andare contro ma non puoi fare come se non ci fossero stati e nel novecento io vi vi proporrei tre temi che a parer mio sono di rilievo che sono rispettivamente il tema del tempo il tema della finitezza e il tema della modernità ora nel novecento sono vari gli autori che si sono occupati del tempo ovviamente Bergson ovviamente Husserl ma colui che ricomprende in modo molto consapevole andate a prendervi Sein und Zeit non solo ovviamente l'avete tutti letto ma andate a riprendere il modo in cui lui tratta la questione del tempo in Sein und Zeit e vedete che Heidegger lì fa esplicitamente i conti con un doppio versante possibile del tempo il tempo della coscienza il tempo del mondo e attraverso questa doppia temporalità a cui lui riconduce anche le versioni più prossime del tempo penso quella di Bergson fa i conti con il suo maestro Husserl che invece in quel luogo non cita mai Bergson e Husserl sono secondo Heidegger prigionieri della concezione aristotelica e del suo atomismo incentrato sulla misura dell'istante e invece attraverso una svolta ontologica che dica Sein ist Zeit che si può pensare al tempo come ciò che ultimamente costituisce tanto il mondo quanto la coscienza superando l'attualismo di Aristotele che nel Nun identifica misurante e misurato diviene possibile per Heidegger mettere in evidenza la dimensione strutturale strutturalmente estatica del tempo quella per cui è nell'ora che si pone nella Jetzt Zeit che si pone la questione del tempo ma senza che l'ora si identifichi con il tempo anzi si potrebbe dire che nell'ora strutturalmente è all'opera un Non Ora che determina infatti la struttura anticipante del tempo in analogia a quanto accade per il rapporto tra Dasein e Sein anche dell'ora si potrebbe dire che è il luogo in cui si pone la questione del tempo ma in modo tale da mantenere aperta la differenza ontologica tra il tempo inautentico della quotidianità e il tempo autentico della decisione e quindi Heidegger è capace ad Heidegger riesce di trovare un orizzonte di spiegazione unitario a cui ricondurre tutte le forme del tempo autentico e inautentico mantenendo però una netta distinzione tra l'una e l'altra Ora le acquisizioni che mi pare ci provengono da Heidegger sono rilevanti prima e per conto mio qualcosa che non può più essere dimenticato la temporalità è il momento è il movimento finito del tempo che sopravviene sempre di nuovo senza per questo trasformarsi mai in infinità è un movimento estatico sempre fuori di sé mai fuohanden con un capovolgimento inatteso e anche un po' sorprendente il non aristotelico e l'istantaneità dell'ora che sembravano essere il fondamento presente della temporalità c'è nel campo in Heidegger a un primato del futuro dell'avvenire e in luogo dell'orizzonte rassicurante della ontoteologia si disegna l'orizzonte eventuale del possibile gli esiti che provengono da Heidegger sono dunque in modo sintetico la finitezza è un scusate la temporalità è un modo della finitezza due in essa l'essere si dà tre l'ontologia che ne deriva è un'ontologia della possibilità l'accento sul tempo non solo abbandona l'enfasi assicurata e rassicurante che aveva accompagnato il primato del paradigma della storia ottocentesco ma lo svolge nella direzione di una strutturale e finita precarietà secondo modernità non mi soffermo qui ma avvertirete che io distinguerei tra moderno e modernità non è la stessa cosa pur essendoci una continuità ma se mai ne parliamo nella discussione secondo modernità nel tempo tutto ha il carattere del rischio i risultati di Heidegger per conto mio sono per un verso da considerarsi assodati e per l'altro da considerarsi insufficienti e mi pare anche che la filosofia e la cultura post-heideggeriana abbia evidenziato i rischi connessi a questa visione del tempo heideggeriano cito tre nomi di cui mi sono occupato Bonhoeffer Benjamin e Zellan i quali rivendicano una a modo tutto diverso l'uno dall'altro rivendicano il ruolo decisivo del presente come punto di svolta del tempo e non del futuro come luogo dell'anticipazione perché la posizione heideggeriana del futuro come anticipazione produce per dirla con Zellan l'enfasi verso l'accento circonflesso cioè una dilatazione del tempo quando non produce una direzione di tipo nichilistico perché il futuro è soprattutto ciò che non è in ogni caso produce una dissoluzione del tempo nella forma della temporalità invece l'accento sto usando sempre il linguaggio di Zellan l'accento acuto del presente il grave sarebbe la tradizione il passato l'accento acuto del presente il far leva sul punto di svolta che la dimensione presente ha è molto più fedele all'indicazione di struttura di Heidegger secondo cui il tempo è il luogo della finitezza secondo questa modalità evidentemente il tema del tempo assume per conto mio una rilevanza ancora più più netta e svincolandosi da ideologiche pretese di assolutezza e senza abbandonarsi a un decadente nichilismo l'Occidente deve tornare a ripensare con tutta la problematicità che ciò comporta la duplicità immanente del tempo secondo modalità che all'accadere del tempo nel suo presente riconoscano la capacità di indirizzare la caducità verso un suo senso possibile il secondo tema è quello della finitezza che è strettamente intrecciato con il tema del tempo l'abbiamo l'ho già detto ora la fine delle grandi narrazioni ottocentesche è la profonda crisi anche della dimensione della totalità come orizzonte filosoficamente normativo e anche qui lo snodo fondamentale naturalmente ne abbiamo già elementi nell'ottocento non è che arriva Heidegger e lo dice lui per primo ma lo snodo fondamentale si trova in Heidegger a cui può essere fatta risalire quella torsione della fenomenologia che la situa sul terreno esistenziale mentre infatti con Husser si riproponeva sia pure su base fenomenologica l'ideale sistematico di un sapere generale e anzi in un certo modo si radicalizzava questa pretesa facendo della fenomenologia una teoria della teoria capace di dischiudere regioni potenzialmente illimitate dell'esperienza Heidegger capovolgeva questa impostazione mostrando che è solo partire da quella regione che è l'esistenza umana finita che si può porre la questione ontologica generale l'uomo finito è il luogo della domanda circa l'essere e circa anche la propria differenza dall'essere ora anche e qui si potrebbe vedere che ci sono anche altri autori che non cito perché ci sono noti dagli Aspers a Sartre dove il tema della finitezza emerge in tutta nettezza ma devo ovviamente anche qui andare per flash bene anche in riferimento al tema della finitezza questione che costituisce il portato di una vicenda legata al duplice processo di individualizzazione e di secolarizzazione proprio della cultura occidentale ci troviamo esposti a una questione analoga a quella che abbiamo incontrato in relazione al tempo la sfida a cui si è chiamati è quella di assumere il paradigma della finitezza come un dato ineludibile e vorrei persino dire per certi aspetti invalicabile ma non considerare questo orizzonte come inclusivo ed esaustivo e per questo che un autore legato ad esempio alla fenomenologia e al suo orizzonte come Levinas ha riproposto il primato cartesiano dell'infinito che non è in contraddizione con l'orizzonte ineludibile della finitezza è dentro l'orizzonte della finitezza che si diviene consapevoli dello stesso primato dell'infinito ed è in forza di esso che si viene capaci di un'articolazione più profonda e radicale del finito non è difficile cogliere il legame che tiene unito finitezza e tema del tempo l'uno innerva l'altro il finito della modernità è in tessuto di tempo è un essere al mondo come individualità temporale e il tempo per converso non è il tempo indifferente degli astri ma ciò che è massimamente a me senza mai poter essere detto mio questa tensiva concentrazione in cui la finitezza temporale non tanto misura perché non la misura ma mette in gioco il tutto e ne decide costituisce un novum difficile qualcosa però che è accaduto e cui non ci si può sottrarre qualcosa il cui accadimento senza un supplemento di riflessione rischia di mettere in discussione la vivibilità del vivere la modernità prosegue cioè il moderno ma anche ne fa esplodere i contenuti ma si deve dire che la finitezza che costituisce la coloritura novecentesca attraverso cui si ripropone una tematica anche più vecchia che è quella del soggetto e per la verità nel novecento anche la via attraverso cui si affaccia la non meno rilevante questione della alterità un tema che mostra come mostrano vertici diversi ma non poi così diversi quali Barth e Levinas diventa una sfida inaggirabile del pensiero pensiamo al totalmente altro di Barth e all'utrui di Levinas ma ci sono notevoli e numerose varianti comunque la si prenda l'alterità e l'altra faccia del soggetto le due questioni sono legate proprio per il carattere finito del soggetto e infatti nell'orizzonte categoriale del finito che i due aspetti sono connessi secondo questa modalità in cui l'atomismo del soggetto fatica ad aprirsi al riconoscimento dell'alterità dell'altro e l'intera vicenda non è né senza conflitto né senza ferita ma come aveva già suggerito l'antica metafora della lotta di Giacobbe con l'angelo è già proprio nel riconoscimento dell'identità del finito che è iscritta una cifra di lotta e di dolore e arriviamo così al terzo tema il tema della modernità il nome di modernità è una tipica segnatura attraverso cui si è soliti disegnare sinteticamente il processo di autocomprensione del nostro tempo anche qui io faccio tutta una storia per quanto breve ma ve la risparmio e vado subito alle conclusioni della storia che risuonerà ancora più dogmatica formulata così ma non vedo altra via c'è tutta una storia del tema della modernità della autocomprensione del moderno come modernità che non può non cominciare da Max Weber e non può non cominciare soprattutto da un tratto molto interessante di Max Weber che nessuno dei suoi seguaci perché tutti poi sono suoi seguaci ha mai seguito cioè il tratto avvalutativo della descrizione Weberiana cioè Weber inizia davvero è colui che sia sul tema della secolarizzazione sia sul tema della modernità la descrive al meglio con tratti che poi vengono regolarmente ripresi asserendo metodologicamente il fatto che ciò che lui descrive è solo descritto e non c'è nessuna valutazione nessuno dei suoi successori di coloro che attingono a Weber ha tenuto fermo a questa avvalutatività tutti ne hanno assunto i tratti i tratti descrittivi ma tutti li hanno poi resi valutativi ed il resto è inevitabile perché parlare di modernità essendo questa una categoria interpretativa e non soltanto descrittiva implica anche il giudizio che tu formuli nella stessa nella stessa assunzione descrittiva allora io evoco varie posizioni che vanno dai francofortesi la dialettica dell'illuminismo a Habermas a Blumenberg a Löwitt a Henrich eccetera eccetera vi leggo solo l'ultimo schema la mappa che le posizioni sopra evocate che non ho evocato ci consegnano potrebbe essere riconfigurata così l'alternativa francofortese percorsa da venature teologiche laicizzate costituisce la affermazione al tempo stesso a mio parere geniale della impossibilità e della ineludibilità del moderno per salvare il moderno bisogna anche dichiarare che in un certo senso è impossibile così il moderno diventa eterno cioè il moderno è questa dialettica contro la barbarie ma è una dialettica che si riproduce sempre ogni volta esso infatti il moderno reca dentro di sé i germi anche della propria negazione ma non può ricorrere a niente altro che a se stesso per mettere rimedio ai danni che esso stesso produce questo è perfetto anche per il capitalismo cioè per l'autointerpretazione diciamo del capitalismo la via più moderata socialdemocratica la chiamo habermassiana che peraltro ne dipende confida che le risorse del moderno possano portare a compimento un progetto che habermas dichiara però ancora non compiuto e quindi è molto più ottimistica è meno apocalittica ed è più ottimistica anche se le considerazioni più recenti sul ruolo pubblico della religione fanno intravedere qualche dubbio sulla capacità del moderno di far ricorso solo a se stesso per guarire dai mali o meglio nel caso suo per produrre quel compimento che non si è ancora raggiunto io sono dell'idea che invece il compimento del moderno si è assolutamente raggiunto quindi la mia posizione per dirla proprio in breve è che è erroneo dire che il moderno non si è compiuto il moderno si è compiuto proprio per questo il che non vuol dire che adesso lo archiviamo ed è finita lì il moderno ha raggiunto ciò che si era proposto questo ci pone altri problemi le proposte di Blumenberg e di Löwitt che sono tra di loro valutativamente e metodologicamente alternative hanno al contrario in comune il presupposto di un certo compimento del moderno e si limitano a discuterne la legittimità per affermarlo o per negarlo solo Enrich e invece mi pare il più più interessante solo Enrich si avventura con la sua proposta nella direzione di un altro moderno ossia di un moderno in cui la razionalità non opera irriduttivamente finendo per il leader per un verso l'assoluto e per l'altro il soggetto ma resti fedele alla propria riflessione alla propria vocazione riflessiva e metafisica e questa è la strada che a parer mio occorre riprendere anche perché come ha sostenuto Alain Touraine quale che sia la posizione dei filosofi la percezione planetaria che sia oggi dell'idea del moderno è piuttosto quella della sua decomposizione si potrebbe considerare in generale ciò che va sotto il nome di postmoderno come l'espressione di questo fenomeno di decomposizione della modernità le forme sono molteplici e passano attraverso vie opposte accelerazione o tentativo di un ritorno alla tradizione ma la percezione complessiva è la stessa ciò che è interessante è che nella valutazione del moderno che come dicevo in ultima analisi una interpretazione si viene non solo a definire ciò che è oggetto dell'analisi appunto il moderno ma anche si dice qualcosa circa il soggetto che combie questa affermazione e anche qualcosa circa l'organo la ragione attraverso cui si opera l'interpretazione e per questa ragione che la questione mi pare scottante e per essere affrontata deve essere vista su due versanti diacronicamente diacronicamente il paradigma più adeguato mi pare essere quello che prende atto del moderno come di un'età prodottasi attraverso un processo consapevole voluto di separazione dal passato il moderno ha introdotto nella storia una cesura che per il proprio carattere e la propria radicalità non si può non considerare irreversibile da questo punto di vista non vi può essere nessun vagheggiamento di ritorno al passato premoderno né alcuna illusione del permanere di un sotterraneo intatto legame con la tradizione questa cesura ha dato luogo nei quattro secoli che ci separano da Cartesio a fasi differenti che io distinguerei in moderno e modernità laddove vi è una dissoluzione come è il postmoderno vi è però anche un compimento sicché il ricorso all'idea di moderno che deve ancora essere compiuto appare un pagliativo siamo dunque alle soglie di un tempo altro l'alternativa che qui si pone culturale e politica non riguarda come ci si debba regolare rispetto al moderno e io credo che la proposta di Dietrich Bonhoeffer il quale parlava di eredità come schema di rapportarsi rispetto alla storia decadenza o eredità come alternativa noi non dobbiamo abbandonare lo schema continuistico della decadenza e avvalerci dello schema discontinuo della eredità noi siamo eredi del moderno quindi lo dobbiamo riprendere ma allo stesso tempo non siamo più solo dentro il moderno questo da un punto di vista diacronico sincronicamente la situazione risulta di chiarezza ancora maggiore per un verso il moderno occidentale appare la forza mondiale prevalente esso però pur mantenendo una egemonia politica è destinato secondo me a uno scontro perdente con tutte quelle forme di non moderno che ci circondano infatti il moderno che per la logica del proprio sviluppo si è privato di una cultura forte di riferimento rischia di diventare subalterno alle culture delle identità premoderne che lo invadono in questo modo pur determinando l'economia perderà la cultura e non sarà più in grado di orientare sensatamente la politica la globalizzazione di cui il moderno occidentale profitta mette sotto la luce fredda della diversità l'incapacità culturale della tarda modernità di far fronte a questa nuova situazione come scrive appunto Turenne se non ci riesce di definire una diversa concezione della modernità meno orgogliosa di quella illuministica e capace di resistere alla diversità assoluta delle culture e degli individui noi incapperemo in tempeste ancora più violente di quelle che hanno accompagnato la caduta dei regimi che precedettero la rivoluzione francese e l'industrializzazione ho chiuso la mia panoramica arrivando ai giorni nostri consentitemi allora adesso qualche brevissima considerazione finale il disagio della modernità che ho cercato di descrivere è suscettibile però l'espressione è di Taylor naturalmente è suscettibile di esiti innovativi e positivi la filosofia deve vedere in ciò un proprio compito e se ha appreso le lezioni che le vengono dalla storia neanche i mezzi a patto che non si riduca a sterile ricostruzione e decostruzione o decostruzione e ricostruzione del proprio lessico anche la religione e il cristianesimo in particolare contiene forze preziose in questo senso e stupisce che ci si concentri in ultima analisi ideologicamente in difesa di ciò che è già stato ed è anche già stato abbandonato assunto questo orientamento di fondo due eredità della storia dell'Occidente ho indicato già come irrecusabili quelle della temporalità e della finitezza la strada scelta dall'Occidente passa attraverso l'inclusione del tempo nel suo scorrere storico ed esistenziale e l'inclusione della finitezza nella sua strutturale imperfezione e nel suo doppio registro di chiusura sul soggetto e di apertura all'altro l'inclusione di queste due cose entro il sistema della verità cioè con questo si vuol dire che il tempo e la finitezza non sono qualcosa da cui si debba guarire ma costituiscono il campo in cui la verità si manifesta tale manifestazione non certifica l'invalicabilità del tempo e della finitezza ma fa intervenire la possibilità di un senso che le mette in questione entro l'orizzonte del tempo e della finitezza rientrano così in gioco acquisizioni millenarie della filosofia ad esempio la scelta di non privilegiare alcun tema come esclusivo la consapevolezza che questa pretesa destina la filosofia ha una tensione enorme perché la indirizza a tenere insieme la particolarità del tema e l'inclusività universale del senso le straneità della concretezza puntuale e il coinvolgimento personale che sollecita la cosa come sorgente e il soggetto come interprete insomma la positività persino erratica del positivo e l'inventività attraverso cui avviene il riconoscimento sono due i terreni su cui a mio parere occorre concentrare la nostra ricerca ma questo ovviamente è molto una scelta personale il primo è quello connesso a una disputa che io considero stucchevole sulla dimensione metafisica e o ontologica della filosofia si potrebbe fare anche qui una mappa che dice che distingue le diversi varianti di significato che si intrecciano e si capovolgono dove qualche volta prevale la metafisica qualche volta l'ontologia qualche volta la critica di entrambi come sinonimi ora già tutta questa intercambiabilità di significati ci dovrebbe suggerire che forse c'è qualcosa di sbagliato in questa in questa posizione denuncia il disagio di un pensiero che non riesce a elaborarsi se non in modo gregario il disagio della modernità si fa avvertire nel modo più marcato e più proprio perché è consegnato dal carattere di consumazione dei propri contenuti divene imperativo invece penso io sottrarsi a questa logica riconoscendo con franchezza che una filosofia che rinuncia alla propria vocazione di porsi come sapere primo e si rinchiude in una forma di sapere regionale ha già pronunciato la propria condanna su di sé e infatti per lo più queste correnti di pensiero non intendono farlo ma vogliono reattivamente sottrarsi a una determinata definizione di metafisica il che è assolutamente legittimo perché non c'è la metafisica ma ci sono state decine di metafisiche e di ontologie ma non è di etichette che si deve discutere la filosofia una filosofia che rinuncia a occupare il campo di un sapere argomentato inclusivo e intenzionato all'universalità non è una filosofia e non importa a partire da quale via né per quali percorsi tutto ciò avvenga ed è rilevante esclusivamente per la specificità della proposta in questione ma resta invece determinante per tutti che il terreno su cui la filosofia si svolge è quello in cui le diverse metafisiche e ontologie già si esercitarono non vi è motivo di abbandonare questi nomi venerabili anche se non vi è costrizione a ripeterne le concettualità ciò che per noi è essenziale è che l'essere comunque debba essere detto non può essere attinto direttamente ma solo entro l'orizzonte dell'ente il tema della finitezza e ancora che l'essere comunque debba essere detto non può essere detto come atemporalità il tema del tempo queste precondizioni che sono un lascito della modernità obbligano a pensare la dimensione ontologica come un luogo capace di reggere una tensione in grado di salvaguardare le istanze duplici che la percorrono l'unità e la differenza che pure si oppongono ma anche si rimandano e la metafisica è il campo in cui rendere ragione adeguatamente di una relazione che solo la protezione dei termini che la costituiscono è in grado di consentire non per nulla e non senza ossimono recentemente o abbastanza recentemente si è proposto un'ontologia della libertà che può rappresentare un modo di ripensare l'essere scavandone l'abissalità che lo costituisce una metafisica come questa è lo sfondo su cui affrontare questioni come quelle etiche e politiche che non possono essere intese come ambiti applicativi ma che sono invece terreni in cui si misura la consistenza teorica che mira a connettere particolare e universale identità e differenza si è osservato che l'Occidente nella presente congiuntura rischia di dar fondo alle proprie riserve teoriche lasciando spazio a uno sfrenamento di identità non toccate dal moderno di localismi ora riprendere l'eredità del moderno significa non dilapidare oltre quel patrimonio ma piegarlo al riconoscimento che vi sono resti di cui far conto perché essi senza essere fondamenti stanno al fondo di ogni costruzione culturale e quali sono questi resti? il tema del soggetto l'identità individuale l'immediatezza di appartenenza alla vita il sentimento la ferita del negativo sono elementi che costituiscono resti da includere dentro la riflessione sono materiale del pensiero metafisico da mettersi anche alla prova del terreno etico e politico è proprio qui che si incontra infine il problema decisivo e arrivo perciò alla conclusione se infatti si accetta di tenere separato il terreno etico del senso da quello del significato concreto delle opzioni politiche si avvia verso un progressivo svuotamento del senso da un lato e dall'altro si favorisce una crescente indifferenza per i significati si opera cioè da un lato con un moralismo impotente o dall'altro con un operativismo ottuso se al contrario si accentua la coincidenza del senso con i significati ci si priva dello strumento che può consentire la convivenza tra la pluralità dei significati evitando l'intolleranza e la violenza dell'integralismo occorre dire che la distinzione tra senso e significato tra etica e politica deve essere resa essa stessa più complessa per poter svolgere la propria funzione bisogna infatti riconoscere che il senso di cui vi è bisogno per convenire eticamente e per aprire la possibilità di un orizzonte politico è generalissimo e persino a una certa misura indeterminato ha il carattere del legame con la vita e con gli uomini è un'immediatezza che si trasforma in principio della mediazione possibile del momento che essa si consente riflessivamente il senso di cui vi è bisogno è dunque piuttosto un orizzonte di senso per converso i significati non sono quasi mai così puntuali e determinati da non contenere anche elementi interpretativi di ordine più generale cioè da non essere essi stessi in certo modo a bozzo di senso occorre insomma articolare il rapporto tra senso e significati tenendo conto della loro distinzione di principio e del loro intreccio di fatto e cogliere in questo intreccio il duplice fenomeno di una opposizione di principio fino al conflitto ma anche di una convergenza di progetto fino all'alleanza proprio questo schema consente di cogliere l'unità e la differenza di etica e politica e soprattutto questo schema rende ragione della ineludibilità dell'orizzonte metafisico esso infatti costituisce quel campo che rappresenta la condizione di possibilità tanto della distinzione quanto della convergenza senza il riferimento alla metafisica intesa qui come il campo in cui si definiscono le condizioni generali di possibilità di quell'orizzonte di senso sarebbe difficile comprendere il legame di protezione e di valorizzazione che congiunge i poli opposti ma non scindibili dell'immediatezza e della mediazione della vita e della riflessione del particolare e dell'universale in questo orizzonte di senso che permane generalissimo ma non privo di forma sono possibili diverse soluzioni ma convergono nel tentativo di essere modi della inclusione che non è uguale a inglobamento e del rispetto che non è assolutizzazione intorno a questo senso generalissimo che in certo modo già esiste ma che esiste solo in forma e che viene alla parola solo in forma inarticolata e intorno a questo senso che tocca alla filosofia lavorare l'eredità del moderno e la consapevole ripresa di una tradizione entro le condizioni di interruzione in cui viviamo e a cui non possiamo sottrarci potranno costituire le premesse per un vivere etico e un convivere politico a misura di ciò di cui vi è bisogno la storia dell'Occidente la storia da cui veniamo ma di cui anche percepiamo i rischi di dissolvimento potrà sottrarsi allora a quella profezia di declino che ha voluto leggervi un destino di tramonto l'Occidente non è necessariamente la terra del tramonto se non in quanto continui a consumare in modo autocentrato la propria tradizione così facendo esso non solo si approssima alla fine ma tradisce anche se stesso e forse l'Europa e qui mi ricollego a un punto che è emerso anche nel dibattito precedente e forse l'Europa che già fu culla dell'Occidente e che non è identica all'Occidente può essere chiamata ad una nuova nascita resa esperta dalla propria storia dal prezzo dei conflitti essa incomincia sia pure ancora solo balbettando a trasformare la ristrettezza dei propri confini e la diversità delle proprie lingue e tradizioni in una nuova possibilità di convivenza in una nuova anche possibilità di pensiero grazie 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 a tutti grazie a tutti